Ciao viaggiatori, oggi vi portiamo a Venezia, più precisamente nell'isola di Burano, direi una delle più belle della laguna, proprio per la sua caratteristica delle casette di tutti i colori, come potete vedere dalle immagini. Questo fatto è un'antica tradizione, quando un tempo i marinai partivano per la pesca e rientravano soprattutto d'inverno in giornate di nebbia, e in questo modo riuscivano da distante a riconoscere, grazie al colore, qual era la loro casa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.